Cosa faccio sabato 23 settembre? Verrò sicuramente in Buge. Beh, in Buge si trovano tante iniziative che vi consentiranno di restare in nostra compagnia. E allora, la visita guidata a Naturale Artificialia con opere di Paola Nizzoli e poi la possibilità di ascoltare dei reading che ci accompagneranno lungo la strada fino a poter entrare e vedere il ninfeo di Palazzo Barbi 4 oppure l'orto botanico che sa riscoprire la chiesa di San Carlo. Quindi sabato 23 settembre venite in Buge in via Barbi.